Buongiorno, oggi leggiamo insieme un brano dall'Orlando Furioso di Ludovico Riosto, quindi alterniamo un po' di brani letti direttamente durante le video-lezioni in diretta. E questo registrato è quello che il vostro libro chiama Il Palazzo dei Desideri, a pagina 734, e sostanzialmente presenta una serie di ottave dal canto XII, ed è appunto dedicato al Palazzo di Atlante. Il canto precedente si era interrotto con Orlando, che sente delle grida di una donzella, e appunto inizia, insomma, riprendendo le fila narrative a partire dalla quarta ottava, in questo caso che è presentata, e si ricorda appunto come Orlando, soggetto sottinteso, ha cercato lei, ovviamente Angelica, per la Francia, ora si apparecchia, cioè si appresta a cercarla per l'Italia, la Lamagna, cioè la Germania, la nuova e la vecchia Castiglia, cioè per la Spagna, e poi addirittura, se non la trova, di passare in Libia, il mar di Spagna, cioè lo stretto di Gibraltar, andare in Libia, cioè in Africa, a cercare Angelica. Ma mentre pensa così, sente alle orecchie una voce venire, che par che piagna, cioè che pianga, si spinge innanzi sopra un grande estriero, trottar si vede innanzi un cavaliero. Quindi c'è un cavaliere che avanza, che porta in braccio sull'arcion davanti, per forza, cioè a forza, una mestissima, c'è una tristissima donzella. Quindi c'è questo cavaliere e una fanciulla. Piange ella e si dibatte, e fa sembiante di gran dolore, quindi mostra, insomma, di provare grande sofferenza e dolore, e di soccorso appella al valoroso principe d'Anglante. Quindi addirittura invoca direttamente il principe d'Anglante, che sarebbe lo stesso Orlando, il quale, come mira subito la giovane Bella, I par colei per cui la notte e il giorno cercato Francia avea dentro ed intorno. Quindi riconosce una perifrasi colei che ha cercato dappertutto notte e giorno in Francia. Ovviamente è Angelica. Il narratore qua, appunto, interviene un po' a sottolineare un po' quello che i personaggi credono, e in realtà quello che è la realtà. Vedremo che è il tema principale di questo episodio. Non dico che ella fosse, ma pare Angelica, gentile, che egli tanto ama. Quindi lei appariva, quindi non dico che era, quindi non dico che fosse veramente, ma appariva come se fosse Angelica. Egli ovviamente, orlando che la sua donna e la sua dea, legato anche dall'iterazione donna e dea, è per lui Angelica, viene portare così addolorata e grama, cioè triste, spinto dall'ira e dalla furia rea, con voce orrenda il cavalier chiama, richiama il cavalier e gli minaccia, cioè lo minaccia, e briglia d'oro a tutta briglia caccia. Vedete qua, anche i giochi sonori si aumentano, quindi c'è il cavalier richiama, richiama il cavaliero, quindi c'è l'ana di plosi, quindi un verso termina con un'espressione, inizia il verso successivo con la stessa espressione, che però è scambiata con il chiasmo, proprio per indicare un po' anche la simmetria con cui procede a queste grida, e poi, vabbè, anche giochi sonori, briglia d'oro a tutta briglia, quindi il nome del cavallo, si gioca poi la litterazione con la briglia, quindi da cui deriva poi il suo stesso nome. In generale, quindi, la struttura dell'ottava con la sua rima AB, 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 CC, crea moltissimi, ovviamente anche richiami sonori, grazie alle rime. Chi è che sta vedendo Orlando? Non è la vera Angelica, è una miraggio, una proiezione, e lo capiremo, insomma, meglio tra poco. Non resta quel fellone, quindi quel fellone, insomma quel bigliacco non si arresta, non si ferma, ne gli risponde, intento, quindi tutto concentrato sulla sua alta preda, e al gran guadagno, che sarebbe appunto il suo bottino, cioè Angelica, e così ratto, cioè così rapido, se ne va attraverso quelle fronde, quindi attraverso quel bosco, che il vento saria tardo a seguitarlo, quindi lo stesso vento farebbe fatica, insomma, a inseguirlo. L'uno fugge, il cavaliere, e l'altro caccia, ovviamente, Orlando, e le profonde selve si odono risuonare di alto lamento. Alla fine, correndo, uscirono in un grande prato, cioè una specie di spiazzo, e quello aveva nel mezzo un grande e ricco ostello, cioè un grande palazzo. E qua c'è una descrizione anche raffinata dell'eleganza, la ricchezza di questo palazzo, quindi il palazzo al tiro, cioè splendido, insomma, era costruito con brari e marmi, con sottil lavoro, cioè elaborati con un grande lavorio. Il cavaliere corse dentro la porta, messa d'oro, quindi rifinita d'oro, con la donzella in braccio. Dopo non molto giunse anche Briglia d'oro, che porta Orlando di sdegnoso e fiero, quindi orgoglioso, sempre feroce. Orlando, appena non è dentro, gira gli occhi, ma ne è più nel guerriero, nella donzella mira, quindi non vede più nel guerriero, nella donzella. Sono spariti perché erano un'illusione, un miraggio, proprio per attirare Orlando all'interno di questa trappola. Subito smonta, fulminando, quindi in modo, insomma, fulmineo, passa dove più dentro il bel tetto s'alloggia, quindi nelle parti, insomma, più a dentro del palazzo. Corre di qua, corre di là, ne lascia che non venga ogni camera, quindi non tralascia di vedere, di ispezionare, esaminare ogni camera, ogni loggia. Quindi alla fine cerca in vano i segreti di ogni stanza bassa, quindi del piano inferiore. In vano poi va su per le scale, e non men perde anche a cercare di sopra, e quindi anche di sopra sostanzialmente non impiega meno tempo né sopra di quanto ne ha impiegato sotto il tempo e l'opera. Quindi dedica uguale tempo, insomma, ispezionare sia il piano inferiore che quello superiore, ma non trova più angelica. Interessante il verso 3. Corre di qua, corre di là. Quindi questi, insomma, doppio avverbio. Vedremo che è ripetuto varie volte in questo canto, ma è un'espressione, uno stilema, quindi un elemento tipico dello stile di Ariosto e dell'intera opera, proprio per un motivo ben preciso, che diremo tra poco. Orlando continua a ispezionare, vede d'oro e di sete i letti ornati, nullo dei muri appaiono nelle pareti, quindi non appaiono, diciamo, i muri delle pareti, perché quelle, il suolo dove si mette il piede, sono nascose, nascose, cioè coperte da cortine e tappeti, quindi tende e tappeti, insomma, specie anche di arazzi. Di su, di giù va il conte Orlando. Ancora vedete il doppio avverbio, di su, di giù va il conte Orlando e poi riede, torna indietro. Né per questo può fare gli occhi mai lieti, quindi gli occhi non sono mai lieti, in modo che, insomma, riveggiano, rivedano angelica, oppure che vedano almeno quel ladro, quel, insomma, furfante, che ha portato via il bel viso leggiadro. E mentre, orquinci, orquindi, quindi vedete ancora il doppio avverbio, quindi ora di qua, ora di là, orquinci, orquindi. Invano, altro avverbio, quindi invano, quindi tutto ciò che loro inseguono è qualcosa di invano, e lo si fa, appunto, invano, altro termine topico che ci tornerà utile. muoveva il passo, pien di travaglio e di pensieri. Cos'è che fa? Vi ritrovò Ferraù, Bradamante, il re Gradasso, re Sacripante ed altri cavalieri che andavano alto e basso. Né me facea di lui vani sentieri, e se ne ammaricavano del malvagio invisibile, signor, di quel palaggio. Forse è l'ottava, forse più importante, che condensa il senso di questo canto. Quindi, cos'è che sta dicendo? Orlando incontra, mentre continua ad andare, orquinci, orquini, quindi di qua e di là. Incontra altri personaggi dell'opera, quindi Ferraù, Sacripante, Gradasso, tutti spasimanti di Angelica, e poi invece Bradamante, che è la fanciulla guerriera, che è innamorata di Ruggero, sono i due capostipiti degli estensi. Però, quindi tutti questi cavalieri, altri cavalieri, anche loro vanno alto e basso, quindi, un po' come Orlando, si muovono, né me facevano di lui vani sentieri, quindi non facevano meno di lui sentieri, cioè percorsi vani, è tutto un percorso vano, e si rammaricavano del malvagio invisibile, il signore, di quel palaggio. Quindi si rammaricano, anche se in modo inconsapevole, che il malvagio signore, cioè il proprietario, insomma il creatore di quel palazzo, li sta tutti ingannando sostanzialmente, e, è ripetuto ancora dopo, tutti cercando il van, cioè il vano, qualcosa di vano, tutti gli danno colpa di furto alcun che loro fatto abbia. E anche qua c'è l'altro tema centrale del libro, come abbiamo detto, che è quello della quest, della ricerca. Tutti stanno cercando qualcosa, sono sempre tutti alla ricerca di qualcosa. L'abbiamo visto anche nel canto 1, solitamente è la persona amata, altre volte può essere un oggetto prezioso, importante, che può servire magari in una ricerca poi più, appunto più importante della persona amata. Tutti però cercano in modo vano, quindi c'è questo smarrimento che è sottolineato dagli avverbi, ci si muove a caso, sostanzialmente in modo confusionario, si, movimento centripeto e poi centrifugo, quindi ci si allontana, poi si ritorna, ma lo scopo è sempre effibero. Dove siamo? Siamo all'interno del castello di Atlante, il secondo castello che crea Atlante. Atlante era questa specie di tutore, protettore di Ruggero, un mago, era molto affezionato a Ruggero, però ha questa profezia, conosce questa profezia, che Ruggero, se si convertirà alla fede cristiana, morirà poco dopo, profezia che poi si rivelerà invece, insomma, verrà sovvertita, lui però in buona fede, insomma, per amore di Ruggero, crea queste illusioni, il primo palazzo che c'era nei primi canti, adesso questo secondo palazzo, sono palazzi illusori, quindi, Ruggero viene collocato lì all'interno per essere protetto, ma Atlante, per fare in modo che Ruggero non si stanchi di questa illusione, di questa finzione, invita sostanzialmente, attira con l'inganno altri cavalieri, altre fanciulle, altre persone, in modo che il nostro, appunto, Ruggero possa essere allettato da questo castello, ma è un castello delle illusioni, quindi ogni personaggio vi vede quello che vi vuole vedere, cioè l'oggetto, la persona amata, continua a inseguirla in modo ossessivo, assomiglia, come hanno sottolineato in tanti, al gioco di, insomma, le case degli specchi, quelle che si trovano a Luna Park, in cui ci sono tante immagini riflesse, ma solo una è vera, e molte sono invece finte, tutte le altre sono finte illusori, e quindi i nostri personaggi sono come smarriti in questo palazzo. Grazie a tutti.